Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Caravan International Magis 95 XT, un camper di 6,99 letto per traverso 5 persone. Cliccate qui sotto che si aprirà il link della nostra scheda del nostro sito web dove ci sono tutte le caratteristiche, dimensioni, optional compreso, prezzo di listino per equipararlo a tutti gli altri camper e prezzo chiave in mano così vi permetterà di poter ben valutarne le acquisto. Questo il garage, due grandi sportelli, una a destra e una a sinistra. Qua le dimensioni della larghezza e questa della massima altezza e questa l'altezza minima. E ora andiamo al suo interno, una bella porta, porta immondizie, la finestra e la zanzarera. Questa è la zona giorno, guardate com'è ampia, quando c'è il letto per traverso c'è sempre una bellissima zona giorno che all'occorrenza il tavolo si abbassa e diventa un bel matrimoniale oppure muovendosi permette di poter o accedere o meglio appoggiare le cose perché qui anche in 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e come vedete anche la settima persona. Molto luminoso, con una bella finestra che si apre, un appoggia per appoggiare tante cose. Qua il pensile e di qua un altro pensile e guardate la cura di questa tappezzeria. Una bella tappezzeria ben lavorata. Qua sotto un contenitore che permette di metterci delle cose proprio qui davanti alla cucina quindi molto pronte per essere usate. Loco cucina, i due fuochi, molto spaziosi quindi vi centrano tranquillamente le due pentole, un bel lavello, vari contenitori, poi pensile e sotto cassettiera con altra cassetto porta posate e poi un bello sportello sotto. Se ti piace questo video iscriviti al canale YouTube Caravambacci e clicca la campanellina per essere sempre aggiornati e soprattutto viene a trovarci perché tutto il team Caravambacci è come me, un camperista e il nostro motto è libertà di scelta perché abbiamo tanti campe così possiamo consigliarti farti risparmiare con professionalità, tranquillità e trasparenza perché vogliamo aiutarvi a farvi scegliere il campe per la vostra famiglia e per le vostre vacanze. Mi raccomando iscriviti e ora continuiamo con il video. Da questa parte il frigorifero al compressore e il congelatore. Il compressore ha un'ottima qualità di refrigerazione però è importante la batteria al litio. Poi qua sopra il contenitore, poi il bagno. Questa è la seduta del water, anche con l'appoggio, quindi comoda. Il suo oblò, un pensile, sotto il lavandino lo sportello. Vedete com'è profondo e funzionale. Poi lo spazio doccia, lo spazio doccia ha la possibilità anche di lavare i bambini visto che è un 5 pozzi anche da famiglia con estrema facilità oppure in questo modo, quindi così si può lavare chiudendo una parte e poi invece in questo modo ci si lava veramente bene. Ora c'è anche la luce. E qua il supporto per gli appendi abiti. Qua un grande armadio. Qua un altro bel contenitore. Poi in questo caso, come avete visto, il letto è la parte bassa però arriva fino a questa altezza. Quando il letto è basso l'accesso è pressoché ridotto, è molto ridotto. Quando il letto è alto l'accesso è completo. Quindi la possibilità di accedere al garage o per prendere delle cose o anche per poterci far stare degli animali, un gatto, un cane che è veramente comodo e funzionale. Le battute sono due perché una in questo caso si va così ma nel caso fosse più alta la seconda è importante. Poi questo è il letto molto ampio. Questo è il matelasso che permette il quinto posto cioè quando il tavolo si abbassa. Qua c'è pensile, pensile sulla destra. Un bel obblò, una bella rifinitura nell'obblò e la finestra laterale. Qua il letto basculante, un bel matrimoniale con la protezione davanti e di dietro e l'accesso con la scaletta nella parte posteriore oppure appoggiandosi sulle sedute sulla parte anteriore. Questo è il grande matrimoniale. Vedete com'è bello grande, areggiato perché qui c'è la finestra, l'altra finestra e l'obblò sopra la cuscina. Quindi c'è un bello scambio d'aria. Quindi un camper compatto per due, quattro, cinque persone, comodo e funzionale. Chiamateci, venite a vederlo perché con la nostra consulenza potrete poter meglio scegliere il camper per la vostra famiglia e per le vostre vacanze. E come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!